Come sapete ogni giovedì la Bungie fa il suo settimanale che è un blog post dove ci aggiorna sulle lavorazioni attuali e future di Destiny 2. Oltre a fare un'introduzione sulla guerra delle fazioni che è attualmente attiva su Destiny 2 si parla dell'aggiornamento in arrivo alla prossima settimana e cioè la patch 1.1.3 prevista per il 27 di febbraio che abbiamo già visto in un precedente video dove si parla della roadmap che gli sviluppatori hanno messo su per migliorare a step il gioco. Vi lascio quel video nella descrizione se volete saperne di più sui cambiamenti che ci saranno da qui a maggio. Riguardo al piano globale sono state cambiate un paio di cose. Le ricompense uniche che erano presenti nell'aggiornamento della prossima settimana sono state posticipate all'aggiornamento invece del mese prossimo cioè il 27 di marzo con l'introduzione della patch 1.1.4 e da quella patch è stato posticipato il bilanciamento delle armi e degli esotici direttamente alla mega patch barra DLC che ci sarà poi a maggio. Questo un po' mi lascia perplesso perché ciò vuol dire che vedremo le cose più succose direttamente all'uscita del prossimo DLC invece di avere un ribilanciamento delle armi e del crogiolo prima per rendere il gioco diciamo così un po' più fruibile. Ad ogni modo veniamo alla prossima settimana e all'aggiornamento di febbraio. Questo aggiornamento introdurrà il cala la notte appunti e la prima scheda delle sfide per il cala la notte autorevole insieme poi alle variante per gli emblemi. Il nuovo cala la notte appunti prevederà diverse meccaniche che ci hanno spiegato nelle scorse settimane. Il punteggio verrà calcolato in base alla squadra e la somma delle abilità individuali. Il punteggio si basa sulle uccisioni e in secondo luogo sulla generazione di sfere di luce quindi niente più cala super veloci per finire le prima possibile. Sicuramente servirà un uso coordinato delle super per cercare di fare più sfere di luce possibile e soprattutto trovare il momento adatto di usarle. I punti avranno un limite di tempo quindi dopo i 15 minuti i nuovi punti che verranno presi saranno dimezzati del 50 per cento. Dal diciottesimo minuto in poi invece non otterrete più nessun punto. Questo per far sì che comunque il tempo rimanga un fattore importante e che ci sia una vera e propria gara a sfoggiare il punteggio migliore. Anche le sfide saranno un'introduzione interessante. Sono degli oggetti che ci permetteranno di aumentare la sfida in cambio di moltiplicatori di punteggio. Dalla prossima patch avremo una scheda delle sfide una volta completato il cala la notte in modalità normale. La scheda possiede alcune opzioni come vediamo dallo screen qui per esempio dice che se il team muore in un'area limitata non si potrà più responare ma si tornerà direttamente in orbita. Come vecchi tempi del cala la notte dove anche se si moriva all'inizio o dal boss sempre in orbita si tornava. In più c'è anche un modificatore che dice che i danni solari sono aumentati leggermente da tutte le fonti. Quindi anche questo è un'ottima introduzione che ci induce anche a cambiare un po' il gameplay usando sottoclassi specifiche. I giocatori potranno vedere i propri punteggi sotto gli emblemi come è sempre stato. Emblemi che si dropperanno ogni volta che si completerà un cala la notte. Come vedete in questo caso c'è la spirale invertita. Anche le aure saranno correlate all'emblema ed ogni emblema avrà la sua aurea d'ora in poi. Questo cambiamento alle aure sarà globale e toccherà anche le aure delle prove dei 9 e del raid così come anche i relativi emblemi verranno cambiati per contare la progressione in quelle attività. In più alcuni emblemi avranno anche delle varianti come si vede dallo screen per esempio. L'emblema del crogiolo può mostrare diversi dati e avere diversi simboli partendo dalla stessa base. Questo ci permetterà di diversificarsi dai nostri compagni se per esempio abbiamo tutti lo stesso emblema. Per sbloccare le varianti servirà una determinata azione come in questo caso dove si vede che per sbloccare questa qui c'è bisogno di uccidere mille titani in crogiolo. Dunque questa è solo la prima tranche di cambiamenti che la Bungie ha in servo per noi da qui fino a maggio dove ci sarà il vero primo test. Intanto la direzione a me sembra quella giusta. Io con questo vi saluto vi chiedo di lasciarmi un like se il video vi è stato utile e di iscrivervi al canale per rimanere sempre informati su tutte le novità su Destiny 2. Alla prossima, ciao ne!